Ebbè, ci lanciamo dentro questa nuova settimana con un arcano, il numero 6, l'innamorato. Ci parla un po' delle relazioni sociali, ma non è che ti sto dicendo che questa settimana devi sviluppare relazioni sociali, soprattutto se non è una tua caratteristica innata. Per relazioni sociali si intende anche che potresti iniziare a riflettere su quelle che già sono in atto. Allora noterai subito, se fai questo lavoro con sincerità interiore e anche esteriore, che molte persone che ti stai trascinando dietro ti stanno simpaticissime, sono armoniche e addirittura ti aiutano a progredire lungo il tuo percorso, ma altre, altre, un po' meno, creano disarmonia, non servono, non ti servono, ovvero non capisci realmente perché dovrebbero continuare a essere nella tua vita. E allora devi iniziare un lavoro in questo senso. Se non condividi i tuoi valori fondamentali con le persone che formano il tuo quotidiano, cerca di capire il motivo per cui dovresti continuare a frequentarle. È una condizione lavorativa? È una condizione di convenienza? È una condizione sentimentale? Cioè, capiscilo. Una volta che l'hai capito ti consiglio di valutare il fatto che se questo rapporto non è arricchente, lascialo andare. Lascia perdere. Se per esempio non puoi lasciar perdere perché questa persona è all'interno del tuo lavoro, quindi sei costretto a frequentarla, semplicemente limita la zona intima che decidi di dedicare a questa persona. D'altronde se al lavoro nessuno ti dice che la devi frequentare per altro. E quando la persona simpaticissima e poco arricchente è all'interno della tua coppia? Anche in questo caso, se la tua coppia è caratterizzata da discussioni e da una completa mancanza di rispetto, devi cominciare a capire che è importante andare oltre. In poche parole significa non fare quello che è meglio per te, ma fare quello che è meglio per entrambi. Perché ricordati sempre che una relazione sana è mossa da un sentimento bilaterale. Se c'è solo da parte tua la voglia, l'intenzione, il fatto di investire su questa coppia, ma ti scarichi troppo velocemente, non ti serva nulla. Cosa peggiore, calpesterai la tua essenza, chi sei, cosa vuoi, il tuo sé superiore. Così questa settimana potrebbe essere opportuno anche cercare di capire come portare nuova armonia all'interno di una coppia, ove possibile. Se non fosse possibile, vai. Grazie a tutti.